Don Mario Probi, organizzatore e regista di questo presepe vivente di Spoltore, seconda edizione. Vogliamo un attimo parlare di queste iniziative, com'è nata, come si svolgerà e quali sono le particolarità? Diciamo che è nato grazie all'aiuto di tutti gli abitanti di Cavaticchi, di Santa Teresa, quindi che si sono organizzati tutti insieme e abbiamo formato questo gruppo, diciamo, piccolissimo, per esiguo, ma ne sono molti, quindi ne abbiamo 300, quindi immaginiamo un po', si sono autotassati anche per i soldi, per raccogliere fondi e c'è stato un lavoro molto forte, molto duro da portare avanti perché sono stati legati anche ai dialoghi, i dialoghi, i tempi, sarebbe un modo di recitare un po' diverso dagli altri spettacoli, perché il tutto poi sarà una sorpresa, è meglio che non vada oltre. Francesca Gianzante, ricoprirà il ruolo della Madonna nel presepe vivente di Cavaticchi di Spoltore, una giovane mamma di appena 24 anni, come è nata questa idea di partecipare al presepe? Guardi, la mia è in realtà una vera passione, poi grazie a Don Mario e Pina mi è stato possibile avere comunque un ruolo principale in questo presepe. Quanta preparazione c'è voluta per interpretare? Tanta, tantissima, tantissima e tanto impegno, si tornava a casa, si riusciva subito, però ecco non è stato un sacrificio, è veramente bello farlo, non è pesante, è solo emozionante, ecco tutto questo.